buongiorno ragazzi dopo aver portato la prova completa dell'audio virtual cockpit e volevo portare sul canale anche una veloce review del bmw live cockpit per capire insieme a voi se è il caso di equipaggiarlo sulla vettura e per farvi un po' vedere tutte le funzionalità che può avere vediamolo insieme. Partiamo dal presupposto che il sistema può essere affiancato sia dall'head up display sia dallo schermo vero e proprio di infotainment per ora è equipaggiato su bmw serie 3 bmw serie 8 bmw x5 da poco anche su bmw z4 bmw x7 e bmw serie 7. Il cockpit frontale è composto da uno schermo di 12,3 pollici completamente digitale e nonostante possa sembrare abbastanza complicato alla prima vista vi dico che è un po' più semplice rispetto ai sistemi audi e mercedes proprio per mantenere la perfetta tradizione bmw questa è la schermata che vi si presenterà davanti quando salirete in auto quindi ad automobile spenta ed è già curioso il fatto che si veda il modello della vostra vettura io adesso sono a bordo di bmw serie 3 quindi potete vedere la serie 3 in centro al sistema proviamo a accendere l'auto ora è completamente attivo perché la macchina è accesa è un buon sistema che si vede bene in tutte le condizioni di luce almeno io mi sono sempre trovato bene e è abbastanza semplice da utilizzare l'interfaccia cambia e varia in relazione alla vostra modalità di guida io in questo momento sono in modalità comfort lo potete leggere in basso a destra e partendo da sinistra trovo la situazione del serbatoio del carburante con l'autonomia l'orario e tutta la parte di sinistra che è diciamo la parte meno personalizzabile del display perché presenta fissa la velocità e nel caso in cui abbiate cruise control adattivo e autopilota di secondo livello disponibile potete vedere la distanza dalla vettura davanti o l'attivazione o la disattivazione del sistema di cruise sotto la velocità trovate il lettore di cartelli stradali che in questo momento è settato a 50 km orario su una vettura ferma molto comodo perché potete settare il cruise control in relazione ai cartelli che l'automobile legge per esempio io sto andando in tangenziale alla velocità di 90 km orari trovo il cartello dei 110 km orari la vettura legge il cartello con un tasto che è set che trovo sul volante posso settare direttamente la velocità del mio cruise control in relazione al cartello che l'auto legge addirittura impostando uno scarto io ho impostato più 5 quindi leggendo il cartello 110 io con il cruise control attivo premo set la vettura si setta direttamente a 115 km orari opzione molto valida poi attraverso il tasto cancel o premendo il freno ovviamente il sistema si disinserisce oltre a questo se siete in autostrada e piove il sistema riconosce la situazione meteorologica e vi consiglia una velocità massima di 110 km orari sulla parte centrale troviamo il display della navigazione che è semplicemente un supporto alla navigazione non è un sistema avanzato per esempio come quello di audi perché lo schermo principale rimane comunque quello sulla plancia a lato del guidatore ma è semplicemente uno schermo che vi dà qualche dritta sugli svincoli della navigazione dopo ve lo farò vedere anche a navigazione attiva sulla parte destra invece troviamo il contagiri che alcuni hanno un po criticato perché si muove in senso opposto a come siamo abituati a vedere la lancetta quindi bisogna un attimo farci l'abitudine un attimo abituarsi all'occhio però niente di particolarmente preoccupante mentre con il bottone bc posto sul piantone di sterzo posso andare a selezionare le varie visuali i vari sottomenu qui ho il menu della radio premendo vado al menu che mi dice in che modalità sono il mio consumo medio il computer di bordo con i chilometri fatti dall'azzeramento e la velocità media la forza g i newton per metro e di kilowatt istantanei durante la marcia vi faccio vedere anche le altre modalità di guida io ora sono in comfort la metto in eco pro lo schermo si colora di blu e sulla parte destra anziché trovare il contagiri vedete il consumo istantaneo perché mentre io vado la lancetta di destra continua a muoversi per dirmi quanto sta consumando la vettura al momento ora lo metto in sport e qui ancora cambia totalmente piccolo particolare mettendo in marcia la vettura in sport come faccio adesso e settando la modalità manuale del cambio posso andare a selezionare la mia marcia quindi in questo momento vediamo s1 perché è innestata la prima marcia poi andando ad agire o sul manettino del cambio o sulle polette del volante posso andare a variare il mio rapporto ora torno in modalità normale vi faccio un piccolo quadro del sistema con la navigazione attiva avvia navigazione verso brescia ho selezionato brescia in questo caso con la navigazione attiva che ho attivato attraverso i comandi vocali posso avere un veloce quadro dei prossimi svincoli delle prossime uscite che mi aspettano però ripeto non è il quadro principale perché dobbiamo comunque appoggiarsi al sistema secondario quello con lo schermo da 10 25 pollici che è optional sulla mia vettura posto sulla plancia centrale tutto qui ragazzi vi invito a andare sui configuratori bmw per tutti gli interessati a vedere i prezzi in relazione al modello spero di avervi detto tutto e fatemi sapere cosa ne pensate perché magari qualcuno di voi preferisce le classiche lancettine io personalmente preferisco il cockpit digitale però ecco questione di gusti come sempre un saluto da dario di drives in italia al prossimo video